Siamo con Giovanni Criscuolo e Parodi della Campese. Allora, oggi Giovanni non hai segnato, resti lontano dalla classifica cannonieri, però penso che oggi era una partita che il campo si è stata condizionata anche molto dal campo. No, oggi secondo me abbiamo giocato male, per il campo sono secondo me scuse, abbiamo giocato male, non abbiamo proposto il nostro gioco e per la classifica cannonieri sinceramente non mi prega niente, preferivo far gol e far vincere la squadra, però mercoledì penso che abbiamo il recupero con San Bernardino e proviamo a riprenderci lì. Tu cosa pensi? Sono pienamente d'accordo con Giovanni, chiaramente, dobbiamo iniziare a cambiare rotta, dobbiamo entrare in campo motivati con, come si dice, la bava alla bocca, perché dobbiamo portare a casa i tre punti sempre, sì, perché se dobbiamo ambire i play-off bisogna vincere, non bisogna perdere il treno là davanti. Ho visto nel secondo tempo che siete partiti abbastanza forti, avete schiacciato il feggino, poi il feggino con dei cambi ha iniziato a giocare. Cosa è mancato forse per fare il gol? Perché ho visto tu, Giovanni, che sulla sinistra spingevi molto e vi siete anche mangiati qualche gol davanti alla porta, verso la fine un vostro giocatore lanciato, mi sembra, da te non è riuscito a buttare la palla dentro. Beh, in questi casi manca anche un po' di fortuna, però ti ripeto, non abbiamo fatto una partita ai nostri livelli. Ora, proviamo mercoledì di nuovo a vincere. Sinceramente oggi ci sta anche la sconfitta. Ok, va bene, siete molto sportivi. Ti ringrazio Giovanni, anche te Jacopo, alle prossime partite. Ciao, grazie. Grazie.